Buongiorno, volevo darvi alcune informazioni per quanto riguarda i casi di coronavirus. Circolano in questi giorni alcune, un mio messaggio dove dichiaro delle cose, voglio chiarirvi che quel messaggio vocale anzi, è le informazioni che ho assunto in maniera non ufficiale attraverso conoscenze all'interno di altri paesi e anche di strutture sanitarie. Diciamo che in questo periodo i sindaci sono degli investigatori che devono scoprire cosa avviene all'interno del proprio territorio e ai propri cittadini. Perché l'ASL continua, insieme alla Regione, a non trasferirci i dati e questa è una cosa gravissima. Quando parlo di ASL non parlo di chi quotidianamente lavora sul territorio, quindi di chi, dei medici, degli infermieri, di tutto il personale sanitario che è a contatto diretto con la cittadinanza e che tutela la salute dei cittadini e che lavora per i cittadini. Ma mi riferisco ai dirigenti provinciali che sostengono che noi non possiamo avere i dati perché non siamo in grado di rispettare la privacy. C'è questa privacy che, a quanto sembra, blocca la trasmissione anche da parte del Presidente della Regione che dichiara in un'intervista che siamo stati sollevati da tutti i poteri di sanità, anche pubblica. Cosa che ci incuriosisce molto perché non abbiamo trovato nessuna norma che dica questo. Mi farebbe piacere che il Presidente della Regione Puglia emiliano ci dotasse di questa norma così magari la leggiamo e se quello che dice il Presidente è vero lo invitiamo a venire nei nostri territori a parlare con i nostri cittadini e a occuparsi di voi tutti perché quello fanno i sindaci. Noi siamo a contatto diretto con il nostro territorio, con i nostri cittadini. Noi siamo, come dice qualcuno, i padri di famiglia. Noi siamo coloro i quali devono raccogliere le stanze di tutti. Questo non sta avvenendo ed è gravissimo, ritengo che sia gravissimo che un Direttore Generale dell'Asso, un Presidente della Regione, continui a insistere su questa strada non trasmettendo i dati ai sindaci. Come se i sindaci questi dati li dovessero pubblicare l'istante dopo averli ricevuto su Facebook. Noi vogliamo soltanto avere i dati per avere contezza di chi è contagiato e chi no, chi è in quarantena e chi no. Questo è tutto.